Cosa sta succedendo in questo video? Questo video che sto registrando è una prova perché questi signori arabi sono veramente molto divertenti Ricordatevi di iscrivervi e lasciare like Senti anche la musica, sentite quanto è bella E' successa una cosa, oh mio dio, stiamo attenti Dice che praticamente i villageri sono a ram, che non so cosa voglia dire, spero di non aver detto Cosa sta succedendo? Chi è questa qua? Chi è questo? Ma che car... Chi è sto qua, raga? Ma che senso hanno? C'è uno scimpanzé che ovviamente balla Qua c'è Barak... Perché c'è... Stanno chiamando Barak Obama, scusatemi Cosa c'entra a Nokia? Perché c'è il tizio di Adventure Time molto brutto per carità? Cosa... Perché? Qual è il senso di tutto ciò? Cioè proprio il senso mi chiedo Questo è un altro video Raga questo... Cioè sono io la mattina praticamente Ma poi perché c'è Peter Griffin? Ma poi voi qua non vedete, scusatemi Perché la mia faccia toglie tutto ma... Cioè guardate qua Cos'è? Se pensate che esagero A dire che questi video mi fanno male Pensate male Cosa succederà mai adesso? No, no raga Mi sto cringiando Per favore Madonna Cioè ho proprio un limite di sopportazione Al cringe, all'imbarazzo Insomma non so come dire È veramente tanto questo Ah Cos'è? Lo vedo Non serve cercare Scusate Adesso mi sono spostato Perché tanto questo video va così Ok basta Io non dico più nient'altro Mi raga non ho parole E con questa perla Direi che questo video può finire qua Scrivetemi se volete vedere Altre di queste reaction Iscrivetevi